Presidente, Alessandri Akhnagy fa agenzia vista. Il ministro degli interni Salvini dice che non si fida molto degli altri e vuole vedere i fatti. Lei avendo visto un po' dall'interno tutto, anche alla luce delle dichiarazioni dopo il vertice, qual è l'atteggiamento verso le conclusioni e i risultati? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Anch'io voglio vedere i fatti. Io ero qui per negoziare delle dichiarazioni. Le abbiamo scritte, ho lottato fino alla fine, credo alcuni giornali hanno riportato, ieri ho fin anche messo in discussione un veto, mi sono riservato di apporre un veto addirittura su tutti gli argomenti del giorno. Semplicemente perché nell'ordine del giorno l'immigrazione, che pure era il primo argomento del documento, era stato posposto, tant'è che è stato affrontato ieri sera. Quindi abbiamo trattato l'argomento di cui al paragrafo 2 sino al quinto, argomenti che a noi stanno anche molto bene, ma ovviamente è stata una questione di metodo e di principio. Ho detto che è un documento unico, o lo approviamo tutto insieme o non approviamo nulla. È la ragione per cui io ho sciolto il veto solo questa notte, 4 e mezza alle 5.